partenza valida per questa prima serie 4% Atletic, Club, Assindustria, Asics, Jager, Bruni Pomano e Sport Club attenzione per quello che riguarda naturalmente questo primo cambio in quarta corsia vediamo quando Assindustria e Sport vado la seconda corsia che dovrebbe essere in questo momento nelle prime posizioni vediamo ancora il passaggio, ancora le maglie gialle Assindustria e Sport Padova che dovrebbe trovarsi in testa alla gara quando manca l'ultimo cambio con l'ultimo cento che si presenta dalla vittoria finale Assindustria e Sport Padova con il tempo ottenuto adesso di 40,87 per quanto riguarda questa successiva sportiva